...di un personaggio che è molto noto, Giorgio Di Genova, stasera andiamo con noi, non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo tutti, un grande studioso, un grande tuttivo, lui ha realizzato un... Ogni vita, anche la più umile e deglia di essere conosciuta, perché è un universo, nell'universo è una storia devastante, questo penso che sia per tutti.